Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con il super bonus ed un ok arrivato dall'Aula di Palazzo del Pegaso ad un provvedimento legislativo riguardante i crediti fiscali. Vediamo. E' stata approvata dall'Aula di Palazzo del Pegaso la proposta di legge che ha l'obiettivo di favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi. Nell'atto, nato dopo un lungo lavoro portato avanti dalla prima Commissione Affari Istituzionali, si stabilisce che gli enti economici regionali e le società controllate dalla Toscana, non inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche aggiornato ogni anno dall'Istat, possano acquistare i crediti fiscali dalle banche da portare in compensazione con i propri debiti fiscali e previdenziari a condizione di disporre di proprie risorse economiche, finanziarie sufficienti per far fronte sia all'acquisto sia ai possibili rischi derivanti dalle operazioni svolte. L'ambito oggettivo di applicazione della legge è quello dei crediti che derivano dagli interventi rientranti nel cosiddetto super bonus, nonché le opere di ristrutturazione edilizia, mentre l'ambito soggettivo viene inquadrato nelle imprese che hanno sede legale operativa in Toscana con riferimento a interventi su immobili nel territorio regionale. Noi come Partito Democratico abbiamo voluto richiamare l'attenzione dell'Aula al fatto che non possiamo accontentarci delle scelte attualmente fatte dal Governo che noi ovviamente critichiamo e troviamo quasi offensive rispetto alle necessità reali della comunità toscana. Non c'è un euro per la Fano Grosseto, non c'è un euro per la Tirrenica, ovviamente bene laddove sono arrivati i finanziamenti ma sono davvero briciole rispetto anche allo scenario nazionale. Con quest'atto abbiamo voluto richiamare l'attenzione del Governo nazionale e chiediamo impegni precisi affinché questa situazione venga davvero cambiata perché così è assolutamente inaccettabile rispetto anche alle molte promesse che anche recentemente erano state fatte, faccio l'esempio della Tirrenica e che non trovano assolutamente corrispondenza in questi atti del Governo nazionale. È stata una partita che si è giocata con estrema attenzione, con estremo equilibrio, tutto questo perché vi era la necessità condivisa direi, a questo punto lo possiamo certificare, di dare una risposta al settore, quello diciamo dell'edilizia, che davvero si è trovato in estrema difficoltà. Di fronte a un provvedimento che è quello comunque di intervenire su una misura che ha avuto effetti positivi da una parte sulla crescita del Paese ma dall'altra ha determinato uno squilibrio sui conti pubblici estremamente importante. È chiaro che l'intervento a tutto sondo del Governo in qualche maniera ha cercato di puntare al contenimento della spesa pubblica, però io credo che fosse importante oggi che l'ente regionale desse una sua risposta. Ci sono dei punti importanti nella legge perché oltre ad aprire a questa possibilità, interloquendo con il sistema bancario, lo si fa con la garanzia da parte delle banche e della solubilità del creditore, lo si fa garantendo la sostenibilità anche dal punto di vista dei conti della Regione Toscana, prevedendo un apposito fondo di garanzia nel caso in cui si rivelassero crediti cattivi. La Regione Toscana con questa proposta di legge cerca di dare un contributo a ovviare ai gravi danni che questo Governo ha fatto col blocco delle cessioni dei crediti, per una misura che fondamentalmente è stata una grande occasione per l'Italia per rivalutare e riamodernare il patrimonio edilizio, soprattutto quello privato, con un investimento di 71 miliardi di euro che ne ha riportati quasi 200 di investimenti di indotto, di lavoro, di PIL, ben 6 punti di PIL percentuale. Il grave problema dei crediti incagliati purtroppo non si potrà risolvere con il contributo piccolo che la Regione potrà dare dal punto di vista economico, ma è un segnale di rispetto verso tutte quelle famiglie che si sono trovate per il furore ideologico del Governo Meloni a trovarsi con degli investimenti fatti con l'impossibilità di poterli recuperare. Questo è il motivo per cui noi votiamo a favore. Italia Viva non ha partecipato a questa votazione. Teniamo assurdo il fatto che con risorse regionali si debbano andare a garantire dei crediti che non sono stati in grado di essere riscossi. Noi siamo per un mercato libero dove le imprese si assumono la responsabilità, in primis quelle di natura finanziaria, e non è corretto far rischiare sulle finanze della Regione la riscossione di crediti in evasi, ancor più su misure di bonus che abbiamo sempre ritenuto inopportuni da parte dei governi, in particolar modo di quella dei Cinque Stelle, che hanno voluto introdurre delle normative assurde nel nostro Paese, se pensiamo al 110 e ad alcuni bonus che sono stati introdotti nel sistema economico della nostra Regione. È molto rischioso per le finanze della Regione Toscana assumersi questa responsabilità e come tale non abbiamo partecipato a questa votazione. Quando abbiamo visto che si tratta di una funzione, di una visione totalmente assistenzialista, dove abbiamo visto varie forze politiche, trovare invece una sintesi trasversale, la nostra concezione riformista e liberale ci ha portato a essere liberi di non partecipare a questa votazione. Pur essendo stato fatto un'azione di sollecito alla questione, è stata abbastanza limata ogni parola, però a me non mi convince, non mi convince perché questo super bonus è stato veramente un pozzo nel quale è sprofondata l'Italia e conseguentemente credo che sia una cosa che pagheremo anche con le generazioni future. Per cui purtroppo ci sono stati tanti magheggi, tante cose che non sono andate al buon fine, tanta gente se ne è approfittata e quindi io credo che la mia astensione voglia rappresentare un qualche cosa che non è stato sviscerato fino in fondo. Altro tema all'ordine del giorno in Consiglio regionale è quello relativo alle attività e al personale dell'autorità portuale regionale con un'interrogazione presentata dal consigliere Massimiliano Baldini che ancora non ha ricevuto una risposta da parte della Giunta Toscana. Ancora nessuna risposta dalla Regione all'interrogazione presentata da Massimiliano Baldini lo scorso marzo riguardanti i ritardi nella nomina del segretario dell'autorità portuale e la mancata attuazione della legge che prevede l'implementazione del personale, il consigliere resta in attesa di chiarimenti da parte del presidente della Toscana Eugenio Giani o della Giunta regionale. È sotto organico di quasi la metà dei dipendenti, ha difficoltà ad agire perché ha un commissario che chiaramente non è un segretario nominato e ha tutta un'ulteriore serie di difficoltà che questi dipendenti hanno segnalato nel portare avanti le pratiche. Io ho avanzato un'interrogazione molto precisa in questa direzione. Il fatto sta che ad oggi io, a violazione di qualsiasi tipo di regolamento, sono privo di una risposta importante non solo per il sottoscritto ma per una comunità che sui temi dell'autorità portuale è molto attenta, considerato anche quello che è successo all'inizio anno, riguardo i pescatori e quindi riguardo un ente che ha necessità di funzionare appieno e invece continua a essere in ritardo sulla nomina del segretario perché fra Regione Toscana e Comune di Via Reggio continuano a non mettersi d'accordo. Ed in Consiglio regionale è stato presentato anche il progetto Vivere Meglio, un progetto che si occupa in particolare di sostegno psicologico alle popolazioni, alle persone colpite dalla recente alluvione, quella drammatica che lo scorso novembre ha devastato gran parte della Toscana, soprattutto nelle zone più centrali. Offrire un aiuto concreto per il benessere psicologico delle persone che hanno vissuto gli ultimi eventi alluvionali in Toscana, Emilia Romagna e Marche. E' questo l'obiettivo della seconda edizione della progetto Vivere Meglio, presentato in Palazzo del Pegaso e promosso dall'ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi con l'obiettivo di favorire l'accesso agli interventi psicologici per ansia e depressione. In qualità appunto di medico di medicina generale a Campi, io quello che ho potuto notare nei miei ambulatori è proprio quanto questi disturbi di cui abbiamo parlato, ansia e depressione, siano molto frequenti nelle donne, nei pazienti che avevano già un'anamnesi patologica positiva per le patologie mentali, ma quanto questo aumento di questi disturbi sia correlato all'entità del danno che i pazienti hanno ricevuto e al supporto sociale che hanno ricevuto. Quindi credo tantissimo nell'aiuto fondamentale che questo progetto dà, proprio come supporto per i cittadini, perché questi disturbi non diventino appunto indelebili, ma come medico ci tengo tantissimo a sottolineare quanto sia importante il fatto che questi psicologi vengono ospitati nei nostri ambulatori. Quindi questo serve a rendere i pazienti consapevoli del fatto che l'accesso alla cura del corpo tramite il medico di medicina generale è allo stesso livello dell'accesso alla cura della mente. Quindi questo è ciò che secondo me è ancora più importante e che sta dietro a questo importante progetto. L'intervento è mediato da un portale che si chiama viveremeglio.empa.it per raggiungerlo. Il portale offre alcuni servizi gratuiti per tutti i cittadini, fondamentalmente un servizio di screening psicologico che restituisce poi un feedback sullo stato di benessere psicologico e l'utilità di rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta per essere aiutati. E fornisce anche servizi di autoaiuto, una serie di manuali che aiutano le persone a comprendere il disturbo che stanno attraversando e semmai anche a utilizzare una serie di esercizi per migliorare la loro qualità di vita. Per le persone invece che abitano nelle province alluvionate offriamo in questo periodo la consulenza diretta degli nostri psicologi e psicoterapeuti per interventi gratuiti per il trattamento di ansia e depressione sulla scorta degli essi di questo screening che facciamo online. Quindi il trattamento invece è dal vivo mediato peraltro dai medici di medicina generale di quei territori in questa fase. Per quanto riguarda la Toscana noi ci aspettiamo che il progetto coinvolga principalmente i giovani della fascia d'età 20-24 anni e 25-29 anni che già dalla precedente edizione del progetto sono state le persone che si sono rivolte maggiormente ai nostri servizi di sostegno psicologico per la prevenzione dei problemi di ansia e di depressione. Con l'evento dell'alluvionale che c'è stato a novembre questa fascia d'età viene particolarmente coinvolta rispetto a tutte quelle che sono la messa in crisi della progettualità e delle proprie relazioni familiari e sociali. La fascia 20-24 anni ad esempio si è trovata già a veder messo in crisi tutta una serie di eventi della propria storia di vita che sono caratterizzanti. Durante la pandemia hanno perso il diploma hanno perso i primi anni in università qualcuno la laurea perché l'hanno fatto tutti questi eventi online. L'evento alluvionale va ulteriormente a mettere in crisi la fiducia nel futuro e la sicurezza rispetto ai progetti futuri. Un evento traumatico come l'alluvione, come in genere le catastrofi naturali sono eventi che possono ovviamente rappresentare i veri e propri fattori di rischio per la salute mentale delle persone e ovviamente questo non solo per l'evento nella data giornata in cui ha luogo il cataclisma ma anche per tutti gli eventi successivi legati al disagio e alle perdite secondarie al cataclisma. Il nostro sistema antistress infatti è un sistema che funziona in maniera ottimale quando siamo esposti a un evento stressante e traumatico per un tempo breve anche se molto intenso. Quando invece ci troviamo esposti a degli eventi che si ripetono nel tempo, che sono continuativi nel tempo anche se magari di intensità decrescente o minore ecco che questo ci mette in difficoltà e quindi da qui l'importanza di fronteggiare gli eventi traumatici con il possibile disagio che essi possono scatenare attraverso processi e percorsi di cura. Questi dunque erano i principali temi della puntata odierna della Voce del Consiglio l'appuntamento con la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 è fissato per la prossima settimana grazie per l'attenzione e buon proseguimento arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.